This is Vitek Tape Show on air every day, indie music from Tavern di Corciano to the world. Mary Sultana, una parola. Hai ascoltato una parola, la parola di chi ti ama, o la parola di chi ti vuole male. Una parola, una parola che ti salva la vita, una parola che ti uccide, una parola che ti ti lascia da solo una parola. Parole che vanno, parole che rimangono, parole che consolano. Tu come sei, caldo, freddo, ancora peggio. Tiepido, tiepido o no, perché no? Tiepido o no, perché no? Hai mangiato la parola, la parola che trafigge, la parola che ti umilia. Ma ti ama, la parola che ti cresce. La parola nel silenzio, la parola che sorprende. Una parola nel silenzio, una parola che ti amo, una parola che ti amo, una parola che ti amo, qui ti amo, la parola che ti amo, la parola che ti amo, la parola che ti amo, No, tiepido, no, perché no? Conosco le tue opere, tu non sei ne freddo ne caldo, magari tu fossi freddo o caldo, ma poi che sei tiepido, non sei choe ne freddo ne caldo, sto per vomitarti da la mia bocca, tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo, ecco, sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui e telli con me. Tiepido, no, perché no? 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 Grazie a tutti 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 Marco Ferrari Grazie a tutti 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 Grazie a tutti